Ma noi ci possiamo più permettere questa guerra costante tra il partito del 27 di ogni mese e tutto il resto del mondo, dei lavoratori del settore privato, del mondo dell'impresa, dei piccoli imprenditori che sta rischiando un tracollo irreversibile? Sono rimasto allibito a questa notizia che è apparsa oggi anche sui giornali di una richiesta da parte dei funzionari regionali di 10 euro a pratica per velocizzare il pagamento della Cassa Integrazione in deroga. Io credo che se questo è frutto di una trattativa sindacale è l'ennesima dimostrazione che si vuole veramente arrivare a una rivolta popolare tra chi il 27 se lo deve guadagnare sudando, tra chi il 27 non lo vede affatto e chi invece continua a, come un sanguisuga, da approfittare del proprio ruolo nella pubblica amministrazione. È ovvio che questo significa anche un'offesa per chi in questi due mesi è stata in trincea e quindi tutto il mondo della sanità, delle forze dell'ordine e anche di apparati interi nei comuni, in tutti i ruoli della pubblica amministrazione che hanno dovuto proseguire l'attività come vigili del fuoco e ne potremmo citare tanti, ma c'è stata una buona parte invece della pubblica amministrazione che è stata posta in smart working, cioè ha lavorato da casa. Ora perché il governo a livello nazionale non decide di fare una scelta coraggiosa? Intanto dire ai sindacati che non è il momento di rivendicazioni che non ci possiamo più permettere. Quindi oltre allo stipendio perché oggi si punta anche a lividare il cosiddetto salario accessori, indennità di risultato? Perché non vengono sospese e queste risorse non vengono date a chi invece ha dovuto continuare l'attività rischiando anche la propria vita? E se a Palermo non c'è qualcuno all'altezza di prendere a calci in culo, ma 10 10 calci in culo, non 10 euro a pratica. Ed è da un mese che tutti i lavoratori siciliani attendono la liquidazione della cassa integrazione inderogo, come in tante altre regioni. Questa è la malapianta della burocrazia e questa è anche quella becera politica che è schiava di questa burocrazia. Sospendete la Bassanini, la politica in questo momento deve prendere in mano la situazione, decidere, prendersi la responsabilità perché è inutile che continuate a prevedere miliardi e quindi li decantate nelle dirette Facebook se poi la filiera burocratica vi porta all'ennesimo fallimento. che la politica si liberi di questi condizionamenti perché non ne possiamo più. Noi così moriremo di mala burocrazia, ma io sono il primo che preferisce invece fanculizzare l'intera burocrazia e chi la protegge.